Musica Hanno lavorato tutte le commissioni in questi ultimi giorni in vista delle prossime sedute del Consiglio regionale Dopo la variazione di bilancio da 40 milioni, approvata il 28 giugno, sono pronte per la discussione finale e il voto anche altre proposte di legge Quella di manutenzione, quella che riguarda il servizio civile, quella che vieta ai minori l'uso delle macchine da gioco che distribuiscono dei buoni Abbiamo descritto nei dettagli i contenuti della seconda variazione del bilancio regionale Ma perché è necessario adeguare i conti già fatti durante l'anno? Lo spiega tecnicamente arregionando il presidente della commissione per gli affari istituzionali e il bilancio Riparleremo stavolta però con tutte le interviste e i commenti delle attività del garante dei detenuti e del bilancio dell'azienda per il diritto allo studio universitario E poi ci concentreremo sul core come il comitato regionale per le comunicazioni Dopo aver intervistato il nuovo presidente la scorsa settimana ascolteremo gli altri quattro membri Daremo uno sguardo anche all'Europa dato che in questi giorni il presidente Mazzeo ha partecipato ai lavori del comitato delle regioni E in quella sede, lo ricordiamo, si sta occupando del tema cruciale della concorrenza La seconda variazione di bilancio votata a maggioranza nell'ultima seduta del Consiglio regionale varia 40 milioni Molte risorse, lo abbiamo sentito, vengono spese per le bonifiche Con l'anticipo di quelle che serviranno per la strada regionale 429 contaminata dal Cheu E poi c'è la bonifica del SIN-SIR di massa, un capitolo importante che vale circa 10 milioni E' quello della cultura Devo dire che è l'avvio del finanziamento della cultura che comunque ci consente di raggiungere E guagliare l'anno passato quanto a tempistiche nell'erogazione dei fondi Certo vorremmo anticipare questi finanziamenti e vorremmo che fin dall'inizio il bilancio coprisse le spese della cultura La parte del Leone la fanno nella spesa corrente, circa 8 milioni Che consentiranno di dar seguito a tutti i bandi di finanziamento per le grandi partite aperte nella regione Il teatro, lo spettacolo, tutto il mondo associativo, gli enti Troveranno soddisfazione e potranno tirare un respiro di sollievo perché le loro attività sono coperte Come li avevamo rassicurati fin dall'inizio dell'anno Ma adesso con le poste in bilancio diciamo che alla speranza si unisce la certezza di poter operare serenamente Sostenendo un sistema che, lo diciamo sempre, non è un sistema accessorio Il mondo della cultura occupa una porzione del PIL toscano ingentissima C'è anche una voce che riguarda le aziende partecipate Tra gli investimenti, per esempio, ci sono quasi 7 milioni per l'acquisizione dell'intero capitale di Sici Diventerà una società in house di sviluppo toscana Ma proprio sul capitolo delle partecipate, più in generale, ci sono forti critiche dell'opposizione Per quanto riguarda Sici Toscana, che è una società finanziaria che dovrebbe entrare nell'orbita di sviluppo toscana Anche in questo caso si lega all'operazione FIDI, cioè alla finanziaria della regione che dovrebbe essere dismessa a favore di sviluppo toscana In realtà i tempi di questa operazione non sono rispettati E ci risultano problemi sulla quantificazione economica che la regione dovrebbe incassare dalla vendita delle azioni Infine, l'ultima, Toscana Strade Prima ancora che parta ci costa già 5 milioni, è bene che i cittadini toscani lo sappiano 2 milioni di presunto capitale sociale e 3 milioni per le prime spese In realtà l'operazione è stata fatta di mandare la delibera alla Corte dei Conti, al garante per la concorrenza del mercato Secondo noi non va bene, perché in realtà è competente il Consiglio regionale Ma prima ancora che il Consiglio ne abbia discusso, appunto, si spendono già 5 milioni Per Firenze e Fiera, per esempio, sono accantonati quasi 6 milioni e mezzo per la ricapitalizzazione della società In realtà in questi giorni abbiamo letto e noi stessi abbiamo denunciato che oltre alla Corte dei Conti Probabilmente può essere in arrivo anche un'indagine della magistratura ordinaria Per una situazione che gli stessi soci, alcuni soci della società hanno definito tecnicamente fallita Con un passivo di oltre 28 milioni di euro Torniamo dal Presidente della Prima Commissione per farci chiarire un dubbio Che ci assilla ogni volta che c'è una variazione di bilancio Perché ci sono queste variazioni nel corso dell'anno? Le variazioni sono determinate soprattutto dalla disponibilità di risorse Che di volta in volta vengono a maturare nel corso dell'anno E soprattutto dei trasferimenti che arrivano dallo Stato Poiché la Regione Toscana puntualmente arriva sempre all'elaborazione della propria legge di bilancio Prima della fine dell'anno, come è giusto che sia Quando ancora però non è chiaro il quadro dei trasferimenti da parte dello Stato Si rende poi via via necessario adeguare e assestare il bilancio alle disponibilità che maturano nel corso dell'anno La maggioranza del Consiglio ha votato un documento che esprime apprezzamento per l'attività del garante dei detenuti Il ruolo svolto oggi da Giuseppe Fanfani Questa figura esiste dal 2009 nella nostra Regione Nella legge che l'ha istituita si ribadivano la finalità educativa della pena E la necessità di lavorare per il reinserimento sociale dei detenuti Nella relazione sull'attività si fa riferimento alla situazione di tutti i penitenziari Anche alle due rems di Volterra ed Empoli Ricordiamo che le rems sono le strutture per i colpevoli di reato Ritenuti infermi o semi-infermi di mente Hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari L'impegno a monitorare la sanità penitenziaria proseguirà Nel 2023 ci sarà una ricerca sul lavoro penitenziario Sarà organizzato un convegno proprio sul lavoro nelle carceri E sul lavoro delle persone in uscita dal carcere Poi insieme alla prima commissione il garante farà visita anche a delle strutture Nuove strutture La prossima visita sarà all'isola di Gorgona Si tratta di una relazione che dà conto di molti aspetti della popolazione carceraria A cominciare dai numeri delle carceri toscane Dal decremento di popolazione carceraria in Toscana A fronte di un aumento a livello nazionale C'è una disamina dei singoli istituti penitenziari Si registra un significativo aumento del ricorso dell'istituto della messa alla prova E si pone l'attenzione ad alcuni aspetti Come ad esempio la tutela della salute negli istituti di pena della nostra regione Il tema delle REMS di Volterra e di Empoli O ancora delle carceri minorili di Pontremoli e di Firenze Una disamina quella del garante dei detenuti Che tiene conto anche di una serie di impegni che il garante stesso ha assunto Sulla stessa linea la posizione del capogruppo di Italia Viva Una relazione dettagliata che ha portato il garante a svolgere una funzione Un'attività che noi come prima commissione stiamo seguendo nei dettagli Io in primis quando da presidente commissione sanità Ho dato vita a un'attività molto incessante nelle carceri toscane Per cercare di ripristinare le condizioni di salute E non solo di igiene sanitaria E anche per migliorare le condizioni di vita dei detenuti Nel rispetto delle normative nazionali La Toscana può fare molto una qualità Di una società si vive e si vede anche dalla qualità delle proprie carceri E come questo noi ci impegniamo Sosteniamo l'attività della funzione di garanzia Che pone il Consiglio regionale al centro di una di quelle attività similari Che vengono poi svolte con il difensore civico Abbiamo chiesto che ci fosse maggiore integrazione Anche con le funzioni svolte dal difensore civico Perché siamo coloro che hanno proposto una revisione degli organismi di garanzia Che pongono il difensore civico anche al di sopra di ogni altra funzione di garanzia E anche come attività di coordinamento di quella dei garanti e dei detenuti Ma anche quella dell'infanzia e dell'adolescenza I consiglieri di centro-destra invitano ad esaminare anche altre questioni però Ma sicuramente in quella relazione ci sono dei buoni spunti Alcuni dei quali sono assolutamente condivisi anche dal gruppo di Fratelli d'Italia Ma noi riteniamo che sia una relazione incompleta Che non affronta tutti gli aspetti che dovrebbe affrontare un garante dei detenuti a livello regionale A partire dal grande tema delle REMS Ovvero le strutture alternative al carcere Dove dovrebbero scontare la pena le persone con malattie psichiatriche E' bene sapere che in Toscana ci sono 70 persone in lista d'attesa Ovvero 70 persone che dovrebbero scontare la pena non in carcere ma in una struttura protetta Quale appunto le REMS Che invece non possono farlo perché le REMS non hanno posti a sufficienza Su questo la regione Toscana è in ritardo L'altro grande tema che non viene trattato in maniera adeguata È il fatto che il 60% dei detenuti nelle carceri Toscana sono detenuti stranieri Su questo finalmente c'è un governo a livello nazionale che si sta impegnando Perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena nel proprio stato d'origine Li fa eco il consigliere Casucci Noi abbiamo una concezione più ampia di quella del garante Non solo una concezione preventiva che del resto è attuativa della Costituzione Le pene non possono che tendere alla rieducazione di chi ha sbagliato Ma anche una concezione retributiva Chi sbaglia deve pagare Questo è un principio che in questo Paese non sempre trova dovuta applicazione Così come noi guardiamo con interesse e gradiremo a venirse fatta anche dal garante Che è una figura principalmente destinata ai detenuti Ma anche all'altra metà del mondo carcerario Le guardie carcerarie Le cui condizioni sono oggetto di nostra attenzione da tanto tanto tempo Siamo preoccupati perché malgrado vi sia meno sovraffollamento Chiamiamolo formale Le condizioni nelle celle per i detenuti sono spese al limite della dignità umana Abbiamo letto pagine che ci hanno inquietato E abbiamo anche vissuto da vicino l'esperienza del carcere di Esso Licciano La maggioranza approva anche il bilancio di previsione 2023-2025 Dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario ARDSU Con un'aggiunta dovrà presentare entro settembre La variazione delle previsioni economiche per il 2024 e 2025 Qualche dato il bilancio di previsione ha un risultato netto di gestione In equilibrio il valore della produzione è di circa 125 milioni Più 18% rispetto al 2022 Anche i costi però aumentano di una percentuale analoga Sono più di 14 mila I vincitori delle borse di studio aumentano soprattutto a Firenze Più 500 In crescita il numero degli alloggi assegnati più 139 In totale ora sono 6.710 Anche in questo caso la crescita più 274 Si registra soprattutto a Firenze Spesso c'è un equivoco e si pensa che il diritto allo studio Riguardi tutti gli studenti presenti sul nostro territorio In realtà questo avviene indirettamente solo per la gestione delle menze Mentre la competenza principale dell'azienda per il diritto allo studio Riguarda gli studenti meritevoli con fragilità di reddito Da questo punto di vista devo dire che la Toscana si conferma Prima in Italia perché corrisponde tutte le borse di studio richieste dagli studenti Cioè tutti gli aventi diritto in Toscana Trovano accoglienza nelle borse di studio Quindi nessuno rimane escluso E questo è un grande risultato che nessun'altra regione o poche altre regioni raggiungono E non sempre Noi invece stabilmente da sempre corrispondiamo alle attese degli studenti Noi che diciamo? Diciamo che bisogna in qualche modo diminuire il costo del personale Cioè diminuire perlomeno che non si alzi più il costo del personale Poi mettere le residenze che stanno diciamo per essere ristrutturate Che i lavori terminino nel più breve tempo possibile Così il numero dei posti letto aumenta e c'è per tutti Quindi anche i costi diminuiscono E poi spendono troppo per quanto riguarda Va bene L'energia e quello è stato un periodo che forse ora si risolve Però per la portineria e le pulizie Devono trovare il modo di spendere meno Probabilmente dovranno fare una gestione diversa E su questo spero che mi diano ascolto E poi c'è il Corecom di cui abbiamo parlato Già nella nostra precedente puntata Ancora disponibile sul nostro sito È stato approvato senza voti contrari Con 24 sì e 6 estensioni Il documento di relazione sull'attività svolta nel 2022 Ora si guarda avanti anche con i nuovi membri del comitato Il presidente Marco Meacci Che annuncia presto gli stati generali della comunicazione Con lui lavoreranno altri quattro membri Che commentano la nomina Durante l'insediamento ufficiale Alla presenza dei presidenti Mazzeo e Gianni Tre di loro sono donne Credo che la comunicazione oggi sia uno strumento strategico Di connessione e di collegamento È importante la percezione anche della vicinanza Delle istituzioni ai cittadini Oltre che la vicinanza reale Credo che il compito del Corecom sia dare questa visibilità Questa percezione Fare tante cose E comunicare anche che si stanno facendo Perché è importante anche il livello di percezione Se facciamo comunicazione Quindi oggi è un momento importante Un momento come il primo giorno di scuola C'è l'entusiasmo Ci si conosce Ognuno di noi potrà dare il contributo Cercando di essere il meno autoreferenziale possibile Ma aprendosi anche a quelle che sono queste contaminazioni Che vengono fuori dalla vita vera Dalle minuzze quotidiane Come raccontava il presidente Mazzeo Alle cose più importanti Perché poi impattano sulla vita delle persone Siamo già pieni di idee Soprattutto cercheremo di portare avanti Le ottime idee intraprese dal vecchio comitato In particolar modo quello del patentino digitale Poi abbiamo appunto idea di dedicarci maggiormente Anche a quelli che sono i social Perché appunto il mondo sta cambiando molto velocemente E vorremmo che il corecom fosse sempre più presente In questo mondo che va veloce e che cambia E far conoscere sempre di più in Toscana il corecom Che è un organismo importantissimo Pronti a partire? Sono onorata di questo nuovo incarico e impegno E sicuramente appunto porteremo avanti Il buon lavoro fatto dal comitato precedente Ma porteremo anche delle nostre iniziative E soprattutto penso al campo della tutela dei giovani Dalla rete E io direi anche una particolare attenzione agli anziani Perché le fake news sono anche materie Insomma che possono danneggiare i nostri anziani Approfitto di questa occasione per ringraziare nuovamente Il consiglio per la fiducia che mi ha accordato In questa carica Sono oltre dieci anni che mi occupo di diritto dei consumatori Ed è questa l'occasione per farlo a favore di tutti quanti i cittadini toscani Con l'insegnamento ho trovato un comitato ricco di eccellenze Nel mondo della comunicazione Che sono sicuro che insieme alla guida del Presidente Meacci È una macchina amministrativa davvero eccellente Anche questa riusciremo a fare un ottimo lavoro Sperando di eguagliare quello dei nostri predecessori Di Broggi, sotto la guida del Presidente Broggi Che ha fatto un ottimo lavoro e per il quale ancora oggi raccogliamo i frutti Hanno lavorato molte commissioni in questi giorni Evidenziamo allora in particolare alcuni aspetti Nella quarta, territorio e ambiente Sono proseguite le consultazioni per il nuovo piano regionale dei rifiuti e dell'economia circolare Sono stati ascoltati i rappresentanti del terzo settore Caritas e Banco Alimentare Che operano nel campo della solidarietà alimentare per evitare risprechi Gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti di Arezzo e Montale E il rappresentante di Astri L'associazione per il tessile riciclato Poi anche l'autorità idrica toscana L'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani L'osservatorio della legalità Che sul tema si è già espresso più volte E l'associazione Zero West Italy La stessa commissione ha approvato Le modifiche al reticolo idrografico Le variazioni riguardano adeguamenti tecnici Per la realizzazione di nuove infrastrutture Che hanno comportato la modifica dei tracciati E una migliore definizione geomerica del reticolo È in corso anche un'attività di approfondimento Per ciò che riguarda il reticolo nelle zone estrattive del bacino Apoversiliese E poi una proposta di legge Che tutta la commissione sanità e politiche sociali ha approvato È quella che vieta ai minori l'uso delle ticket redemption Le macchinette da gioco che danno dei buoni per i premi L'obiettivo è naturalmente quello di dissuadere i giovani dal gioco d'azzardo Perché anche se non ci sono premi in denaro Il meccanismo della vincita rischia di creare dipendenza Ci saranno sanzioni fino a 500 euro Presto ci sarà anche un regolamento con le norme di attuazione Tutti gli altri atti sfoceranno naturalmente nel dibattito in aula Che vi racconteremo tra una settimana e anche nelle puntate successive Ci spostiamo a Bruxelles Sede delle istituzioni europee Anche sulle politiche di concorrenza nell'Unione Europea Il Comitato delle Regioni Che rappresenta naturalmente anche la Toscana Sta dando un contributo fattivo alla discussione Al suo interno il relatore è il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Che proprio a Bruxelles ha incontrato diversi interlocutori I rappresentanti degli enti locali regionali Le associazioni coinvolte Esperti e funzionali delle istituzioni europee Ecco Mazzeo È stato molto importante confrontarsi con gli stakeholder Che operano in Europa Perché una concorrenza effettiva Consente alle imprese di competere in condizioni di parità In tutti gli stati membri Incentivandole al tempo stesso a sforzarsi Costantemente di offrire il prodotto migliore I servizi migliori al miglior prezzo possibile Il che a sua volta guida l'innovazione Guida il cambiamento Ma anche la crescita economica a lungo termine Questo è un tema importante Che sembra lontano da un cittadino Ma che in realtà tocca la vita di ciascuno di noi In questo momento però alcune regole sugli aiuti di Stato Hanno causato degli squilibri Mettendo a rischio la coesione territoriale Perché alcuni stati possono garantire una quantità di aiuti ben maggiore Avendo leva fiscale E avvantaggiando le proprie aziende nazionali nel mercato unico E questo non è giusto E allora il parere va esattamente nella direzione di cercare un riequilibrio Ecco, grazie agli stakeholder ho colto tutta una serie di spunti Che metteremo a disposizione del lavoro Che stiamo portando avanti al Comitato delle Regioni Con un obiettivo offrire ai cittadini italiani Offrire ai cittadini toscani servizi migliori Ad un prezzo migliore Nella sessione plenaria del Comitato delle Regioni Si è parlato soprattutto di qualità dell'aria Lo stesso Mazzeo ha sottolineato che con il contributo della Toscana Sono stati approvati due atti Uno per la riduzione delle emissioni in atmosfera L'altro sull'industria green Nei nostri telegiornali quotidianamente vi informiamo Su tutte le iniziative che qui a Palazzo del Pegaso Sede del Consiglio regionale Trovano la loro vetrina Come la nascita del nuovissimo spazio multimediale Di Palazzo Nerucci A Castel del Piano Dedicato ai pittori Nasini Il pittore Nasini Si colloca all'interno del barocco capostipite Di una dinastia di grandi artisti Particolarmente attivi nella zona della Miata Dove appunto adesso nasce questo museo innovativo Particolarmente vivace in questo periodo estivo La città di Chiusi Dove adesso si svolge la decima edizione Dell'Arts Rock Fest Rassegna musicale e ingresso gratuito Organizzato dall'associazione Gruppo Effetto Collaterali Musica anche dall'Irlanda Dalla Germania Dalla California E molte iniziative culturali e di spettacolo Che affiancano la manifestazione Più avanti però dal 30 luglio al 6 agosto Sempre a Chiusi Si svolgerà il Festival Orizzonti Ventunesima edizione Di questa festa collettiva Dedicata all'arte e allo spettacolo In grado di coinvolgere Tutta la Val di Chiana E attrarre anche molti turisti C'è tempo fino al 14 luglio Per enti locali, musei civici Enti gestori di parchi, aree naturali e archeologiche Della Toscana per partecipare al nuovo bando Giornata degli Etruschi Che il Consiglio regionale ha aperto Per sostenere le iniziative Per celebrare civiltà, cultura e patrimonio Degli Etruschi Dovranno svolgersi queste iniziative Tra il 18 agosto e il 30 settembre Oggi noi ci fermiamo qui Torniamo venerdì 14 luglio Sempre sul canale 15 E sempre dopo il Tg della Sera Alle 21.10 Degli Etruschi Degli Etruschi Degli Etruschi